Hooligans, Black Devils e i meglio peggio sono loro i vincitori del torneo Fidart Fidgest di Freccette, giocato allo spaccone di Cittilio. In Serie A si impongono gli Hooligans in arrivo dalla cascata di Ferrera che hanno battuto i time out delle betulle di Luino al termine di un'emozionante sfida. E ora l'orizzonte per tutti i giocatori e gli appassionati risponde a un unico indirizzo, Bolzano. Quest'anno abbiamo fatto primi nei provinciali e vediamo di fare qualcosa prossimamente a Bolzano, anche se sarà molto difficile, però ci proveremo. Onore delle armi ai secondi classificati. Speriamo di arrivare almeno alla domenica per fare le finali, non è facile perché il livello è parecchio alto, però dai, proviamo dai. In Serie B trionfano i Black Devils del circolo Acli di Luino. Forza Black Devils, sempre! Forza Black Devils, sempre! Grazie a voi, ciao! Grande festa al pericaffè di Cittilio per i meglio o peggio, primi classificati in Serie C. È stato un campionato bello, duro, appassionato, una finale molto intensa e faccio i complimenti ai miei avversari, le frecce per caso di Ponte Tresa che hanno fatto una grande, grande finale. Finalmente siamo riusciti a vincere questo trofeo che l'anno scorso abbiamo sfiorato e siamo contenti. In scena anche i frecce per caso, gli smile darts di Lavena Ponte Tresa, il riarma caffè di Caravate, gli intelligenti di Cittilio, i no stress di Marchirolo. Al di là dei risultati, regalare soddisfazione all'entusiasmo registrato e la passione per uno sport che all'estero è gettonatissimo da noi, ancora sotto traccia, ma pronto a guadagnare proseliti, seguaci e rinnovato slancio. Abbiamo seminato nuove leve, pare che il movimento riprenda bene, a Ponte Tresa questo sta avvenendo. Infine la classifica singoli, primo della categoria A Roberto Petetta degli Hooligans, in categoria B Pasquale Giustra dei Riarma Caffè, nella C Remolo Rossano Ceni degli Intelligenti, nella categoria C femminile Monica Benso dei Crazy Darts, in arrivo dal Central Bar di Vigiu.